Musica Ciao a tutti ragazzi sono sempre io MCOPS e bentornati nella MCCraft Quest'oggi volevo iniziare subito dicendovi che purtroppo ho avuto dei problemi con la registrazione dell'audio della mia voce negli scorsi episodi Nel senso che avevo registrato l'episodio 3 e l'episodio 4 Ma ho deciso di non pubblicarli appunto perchè non mi aveva registrato l'audio della voce E me ne sono accorto purtroppo soltanto a fine registrazione Quindi avevo già costruito tutto e ho detto no non me la sento di disfare e di ricostruire tutto in un episodio Per cui oggi vi farò vedere quello che ho fatto in quei due episodi che non vedrete mai purtroppo E andremo avanti a costruire Io ho intenzione oggi di costruire un bel query perchè di diamanti penso di averne abbastanza Ne ho 8 spero bastino E poi nei prossimi episodi ho in programma di fare l'MFE Eh si l'MFE l'ME scusatemi Per avere tutto diciamo dentro quel macchinario Comunque iniziamo subito Vi faccio vedere allora guardate subito qua Ho aggiunto due macchinari che sono il compressor e la induction furnace E ho messo un bel po' di upgrade all'interno dei nostri vecchi macchinari Come l'Electric furnace Ne ho messo 7 E nel nostro reactor ne ho messi 7 Poi ho ingrandito tutte le varie chest Facendolo diventare Aeron chest E le ho anche ingrandite perchè se usavo delle chest normali Questi due me li collegavo E a me non andava per niente bene Perchè sennò rischiavo che alcuni materiali finissero nel macerator Quando erano già macerati Comunque come potete vedere qua Ho fatto un upgrade Dei solar panel Ho messo gli high voltage Adesso è notte quindi non mi arriva energia Però comunque producono tanta energia Che è sempre pieno Quindi ne producono veramente tantissima E poi come altra cosa che avevo fatto Era questa bella farm Di cane da zucchero Perchè ho intenzione di iniziare la Com'è che si chiama La 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 mist craft ecco Per cui adesso questo non funzionava Mettiamo giù Così e vedrete che funzionerà Perfetto Comunque come potete vedere quando crescono Io arrivo qua faccio così E non funziona Vabbè comunque poi passo qua e mi prendo tutti I miei drop Aspettate che non so perchè qua non deve funzionare Io quello lì lo butto giù E non me ne frega nulla Come potete vedere ragazzi Ho craftato anche I materiali I materiali Gli utensili di diamante Appunto perchè sono andati in caverna E ne ho trovati 12 mi sembra Si 12 Non so Però ne ho ancora 8 Quindi Per il quarry penso bastino Allora aspettate Ok Qua Non mettiamo un cassio E va fatto Allora Andiamo a costruire il nostro bel quarry Io mi sono già preparato delle Delle gear Però dobbiamo andare avanti Quindi mi serve del ferro Che troviamo qua in grande quantità Dell'oro Che non mi serve tutto Però me ne serve abbastanza E Dei diamanti Allora guardiamo com'è Io non me lo ricordo Allora Iron gear Ok Me ne servono Quante me ne servono 1 2 3 Però 4 E 5 7 Me ne servono Perfetto Per cui Che cosa sta succedendo Ok Allora Me ne servono 7 Non abbastanza cobblestone Speriamo ci sia Esatto C'è Comunque Chi è che sta aprendo le porte Eh ma basta Allora Qua ne abbiamo 4 Me ne servono altre 3 1 1 1 3 1 2 3 Poi me ne servono 3 No Tutte Non mi bastano Fa un chiulo Fa un chiulo Fa un chiulo Fa un chiulo Facciamone più che possiamo E poi E poi Andiamo a prendere Altro ferro Perfetto Allora Poi ci servono Allora 3 Mi servono In iron E poi Queste 4 Mi servono In Gold Perchè 2 Le tengo Gold E 2 Le devo fare In diamond Allora Queste 2 Le faccio In diamond E ho fatto Fuori tutti i diamanti Però non me ne frega Niente Anzi Si che me ne frega Cazzo 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 Ah ma forse Ce ne ho dentro Questo No forse ce l'ho qua sopra Yes Esatto Ce li avevo Allora Meno male ragazzi Sennò dovevo andare a scavare e ritornare Comunque mi serve Un piccone di diamante Allora Ecco qua Perfetto Ora possiamo craftare il nostro Quarry Così 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 E poi cosa ci manca Cosa ci manca Cosa ci manca Una redstone che abbiamo Meno male ragazzi Meno male ragazzi Ecco qua Ecco il nostro Quarry Allora Ehm Ora il Quarry Ci servono dei Motori Non così però Engine Vediamo quale possiamo mettere Per me conviene prendere questo Però Si Facciamolo Facciamo questo Allora Ok Prendiamo altro legno Eccolo qua No non mi serve la cesta Allora Facciamole un po' Pffetta Allora Facciamo Questo Si faceva Perché ne ha così Tante Sono uno stupido Allora Due team gear Che si fanno Così Allora Uno due Uno due Uno due E uno due Poi Andiamo a prendere Il team Il team Come cazzo parlo La team Allora Prendiamo Se tanto Mangiamo Mangiamo E prendiamo la team Allora Un dos Un dos Un dos Un dos Ok Poi ci serve Della team Un pistone Un pistone Che ci abbiamo Che è culo Questo si chiama culo Ragazzi E un vetro Che non vedo qua Ci sarà Qua Esatto Due Team gear E tutta La team Là sopra Ecco Il nostro Electrical Engine Adesso Siccome Quei cosi Producono Veramente Tantissima Energia Io me ne Piglio Uno Me lo porto La Dai Fammi Fammi Salire Ora Prendiamoci Uno di questi Cosi E portiamocelo Dove vogliamo Anche se Ragazzi Mi sa Che il query Non è completo Così Però Fa niente Fatemi vedere Se ho il waypoint Della casa Esatto Sì Meno male Meno male Ciao Allora Andiamo Un po' Lontano Su una montagna Magari Perfetto Ragazzi Allora Non va bene Il terreno Su cui l'ho posizionata Per cui Adesso Andiamo giù Senza morire Magari E Cerchiamo Un altro posto Fatemi andare Veloce Come il vento Ok Forse Questo lo Questo è il posto Giù Da registra Devono chiamare Sempre ragazzi Non c'è mai una volta Oh E vai Sta costruendo Ragazzi Non ho idea Di che cazzo Sia sta roba Ok Ora dovrebbe partire E dovrebbe iniziare A costruire Il query Ecco Esatto 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 Perché questi Se ne vanno Affanchiulo Perché tanto Non sono serviti A un cazzo E mi tengo Un query piccolino Però intanto funziona È una buona notizia Adesso che continuo A costruire Direi di andare A casa E Craftarci una bella Cesta Bella grande Per cui facciamo Una cesta Normale Qua c'è questa La facciamo diventare Tutta Di ferro E la facciamo diventare Tutta Di Oro Perfetto Adesso Poi ovviamente La farò diventare Una 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 diamond chest Oddio Eh sì Una diamond chest Una ender chest Che mi porterà Tutte le cose a casa E la farò Smistare Nell'em Comunque Qua Come potete vedere Sta continuando A costruire Adesso sta distruggendo Tutto Ma Adesso Lo aiuto Ok E in teoria Adesso Mi metto qui E vi faccio Un timelapse Della costruzione E in teoria Grazie a tutti. Perfetto ragazzi, come avete potuto vedere ha costruito tutta la struttura e adesso non so con quale braccio, secondo me dovrò ancora iniziare a costruirlo, però sta iniziando a scavare. Adesso ovviamente dovrò fare degli upgrade aggiungendo qualche motore perché come potete vedere è veramente lentissimo, quindi metterò un motore di qua, un motore di là, lo farò veramente potente. Poi è anche un po' piccolino, magari provvederò a aumentare la grandezza, comunque come potete vedere sta già portando dentro tutta la roba che raccoglie. Per cui con questo bel cuore alle spalle io vi saluto e vi invito a tornare a guardare la quarta puntata della MC Craft che uscirà non so quando. Per cui io vi do un bacione grosso, vi saluto, vi invito a mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e a mettere mi piace alla pagina Facebook. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da MC Ops